buongiorno raga solito viaggetto con il cagnaccio in giro per la city per la campagna city e niente volevo augurarvi una buona giornata grazie ai nuovi iscritti scusate se vi commento i video iscrivetevi però più si è meglio è per tutti perché anche me quando vedo che mi si iscrivono al mio canale mi iscrivo direttamente senza che mi chiedono ed è giusto così perché dobbiamo crescere un po tutti e niente volevo cogliere l'occasione per augurarvi a tutti una buona giornata fate i bravi e sempre col sorriso sempre col calore nel cuore da chiamatemi guerriera è tutto per oggi ciao 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 ci vediamo nelle nella community raga ciao